A terra! Dobbiamo bloccare questa città. Ce l'ha un mandato. Questo è il mio mandato. CSI Miami, nona stagione. Ottimo lavoro. Non è finito. Lunedì, 21.10. Top Crime. Leggende. Superstizioni. Ritiatavici. Dunque mi conferma che è un omicidio. O macabre messe in scena. È stato avvelenato. Per nascondere moventi colpevoli. Per il ciclo Un luogo un delitto. Delitto in Ambuasi. C'è un cerchio. Riproducono il disegno di Leonardo da Vinci. Giovedì, 21.10. Top Crime. Questo programma può nuocere ai minori. Se vuoi impedirne la visione, ricordati di attivare il dispositivo di blocco attraverso le impostazioni del decoder. In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, the dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories. That chick was a guy? 100%. Dude, our Adam's happy.